Ciao ragazzi, bentornati nel canale. In questo video vi spiego esclusivamente come smontare e rimontare ingranaggi del cambio. Un piccolo video breve di qualche minuto dedicato a tutto ciò che si deve fare e che non si deve fare e vi mostrerò anche simulando possibili errori e come riconoscerli. Tutti gli altri video circa la revisione del blocco motore li trovate nel mio canale. Buona visione! Adesso nell'alberino del cambio dobbiamo mettere in ordine. Prima un seager. Una volta messo il seager, controlliamo che sia ben incastrato nella sede da tutte le parti, così lo mette il primo ingranaggio. E abbiamo due rasamenti. A secondo lo spessore del gioco dovete aumentare o ridurre il rasamento. Adesso lo vediamo, ma quello che voglio farvi notare è che i due hanno uno spessore diverso. Se mettete il rasamento più grande, una volta inserito l'ingranaggio nel verso giusto, avrà uno scalino grosso sull'ingranaggio, cioè non saranno combacianti perfettamente. Se invece mettiamo l'altro, più sottile, l'ingranaggio andrà a combaciare molto meglio. Se l'ingranaggio lo mettiamo al contrario, avremo uno scalino enorme e in più si vede che non combacia bene, non è bene in sede. Quindi lo mettiamo per il verso giusto. Inseriamo la crociera. Dove è leggermente stondato, fate ruotare la crociera e la inserite. Il selettore. Questo vi ricordo che si avvita al contrario, in senso anti-orario. Vi siete mai chiesti il perché? Il motivo, secondo me, è che quando alla crociera arriva il colpo del motore per dare trazione, questo tenderebbe a svitarsi se fosse avvitato in maniera standard. In questa maniera anti-convenzionale, probabilmente si previene il fatto che si possa svitare. Il primo è la sporgenza verso fuori. Tutti gli ingranaggi montati hanno un po' di gioco. C'è un po' di spessore fra ognuno di loro. Questo è importante per capire come si montano gli ingranaggi. Ogni coppia di ingranaggi deve avere un minimo di spessore fra il loro. Ad esempio, così non ce l'hanno. Toccano proprio. Rischiano di spizzicarsi i dentini. Mentre messo così, si ha un po' di gioco. Così va bene. Così no. Per non sbagliare, il mio consiglio è copiaterli tutti, anche sul tavolino. E poi li andate inserendo. Così vanno bene. Così no. Perché vi dico accoppiaterli tutti e non uno? Perché vi potrebbe capitare di metterli così. E direi, guarda, così va bene. Così io gioco. Lo posso inserire. Però poi questo non entra né in questo modo, né in questo modo. Come si inserisce il cambio? Il primo va con la parte vuota, concava, verso l'interno e la parte sporgente verso l'esterno. Tutti gli altri a seguire devono avere un pochino di gioco. Ok? Nessuno di questi si tocca. Se per esempio questo fosse messo così, i dentini qui andrebbero a toccare, rischiando di spizzicarsi. Quindi, messi tutti così, lo poggiamo e lo andiamo, come? Svoltando la pagina, a inserire il primo. Girate e fate, eccolo, innestate la crociera, il secondo, il terzo e il quarto. L'ultimo spessore e poi il suo siger. Ok, così ha poco gioco. Ci sono delle tabelle sulla tolleranza del gioco che deve avere il cambio. Se avete montato tutto giusto, dovreste avere poco gioco. Se vi trovate con troppo gioco, qualche ingranaggio non è stato montato bene. Questo poco gioco lo misuriamo con un attrezzo di questi, sono dei piccoli spessori. La Piaggio dice da 15 a 40 decimi. 15 ci entra? Sì, 15 entra. Stretto, stretto, entra anche 20. 30. 30 non entra. Siamo nei limiti. Vorrei farmi notare una piccola cosa. La Piaggio dice da 15 a 40 al montaggio. Dopo l'uso 50. Noi adesso lo stiamo montando, quindi dobbiamo avere da 0,15 a 0,40. Altrimenti dobbiamo aumentare questi piccoli anellini che abbiamo messo prima del siger. Un'altra cosa che voglio farvi notare è che qui dice da A a B. Qualora non si ottenga il gioco A, che è quello sull'ingranaggio più piccolo, quindi quello più interno, con anello di spallamento B, sostituire quest'ultimo. Quindi noi, quello più spesso, lo andiamo a mettere A a B, in quello più esterno. Perché se lo mettessimo in quello più interno, come vi ho mostrato prima, si andrebbe a sfalzare un po' il gioco di tutti gli ingranaggi. Cioè, andrebbero fuori asse di qualche decimo di millimetro. Invece devono stare in asse lì dentro e lo spessore si mette qua fuori. Grazie per aver guardato il video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Se state a visionare il blocco, come suppongo, visto che state guardando questo video, andate a guardare anche gli altri video che ho fatto a riguardo. Buon lavoro! Buon lavoro!